Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, Mauro Caimi qui con voi, ritorniamo alla nostra programmazione standard e all'analisi grafica e ciclica dei mercati delle criptovalute che questa settimana era saltata, lo dovevo fare lunedì vista l'eccezionalità di questa situazione. I mercati delle criptovalute che ve lo dico già da subito non hanno assolutamente tutito il colpo di quello che è successo nel sistema finanziario in generale e quindi i mercati delle criptovalute che sono andate pesantemente a fondo nella giornata di sabato e domenica, continuata anche la fase di discesa o comunque di riflessione nei primi giorni della settimana. Cosa è cambiato? Un bel po' di cose, lo vedremo oggi nel video, soprattutto a livello di analisi ciclica, l'attuale situazione non è assolutamente positiva e lo vedremo tra poco. Questo non mi porta comunque ragazzi a dirvi che siamo in una situazione catastrofica, io non sono un catastrofista, non lo sono nemmeno nei mercati old, anche su quelli avrò una serie di video da farvi vedere perché ci sono delle chicche, delle opportunità enormi che si vanno anche a configurare durante i periodi di crisi ragazzi. Quindi ne parleremo assiduamente nei prossimi giorni sul canale, perciò iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanellina delle notifiche per non perdervi i nuovi video ragazzi e soprattutto condivideteli dove ritenete opportuno. Andiamo però sui grafici perché oggi voglio essere un po' più leggero rispetto agli ultimi video che hanno parlato di argomentazioni un po' più complesse. Andiamo sui grafici e vediamo quello che sta succedendo. Una sola chicca prima di passare sul grafico di Bitcoin che vedete già dietro davanti al mio super monitor. Una piccola chicca ragazzi, Bitcoin bene rifugio. Allora questo argomento gettonatissimo sulla community dei crypto trader è molto importante da considerare. Io più volte vi ho spiegato e vi ho detto che Bitcoin non è un bene rifugio ma è un bene diverso, potremmo chiamarlo così. Ragazzi perché? Perché lo dimostra ogni volta, quindi non può essere considerato un bene rifugio però non è neanche così correlato agli altri mercati. Io direi che è totalmente decorrelato, è una cosa che non c'entra nulla con il mercato tradizionale. Per una serie di motivi, perché per esempio questa crisi finanziaria che stiamo vivendo in questo momento, questa crisi della borsa a livello mondiale, non è una crisi finanziaria semplice ma è la conseguenza della paura di un rallentamento della produttività. Questo giustamente porta i mercati a scontare questo rallentamento del PIL e del ciclo economico. Mentre sui mercati delle crypto questa cosa non esiste ragazzi, perché la presenza di Bitcoin nella produttività è sul PIL e con il PIL non ha alcuna forma di correlazione. Bitcoin ha molta più correlazione ragazzi con il tasso di adozione delle criptovalute. E in questo particolare momento il tasso di adozione sicuramente subisce una frenata, anche magari per qualche mese, per qualche anno. Perché se l'economia old va in crisi recessiva, se i sistemi iniziano a crashare così come stiamo vedendo, con forti fasi di panico, nessuno sa cosa deve fare, sicuramente andare a pensare di adottare una tecnologia estremamente innovativa come quella della blockchain, ragazzi sì lo si fa però dopo un certo lasso di tempo. Quindi sicuramente i sistemi di avanzamento tecnologico subiscono uno stop in questo momento, perché si tirano sempre i nemi in barca ragazzi quando le cose vanno male. E quindi sicuramente la tecnologia andrà avanti, sicuramente la blockchain è presente, sicuramente magari sarà utile a risolvere anche questa crisi che stiamo vivendo, non sappiamo ancora dove ci porterà. Però è troppo presto per tirar giù delle conclusioni, è troppo presto per parlare e dire Bitcoin è un bene rifugio, è il futuro, chiudono le borse mondiali, tutti si riversano sulle criptovalute. Non diciamo sciocchezze ragazzi, ok? Anche se a me piacerebbe vedere questa cosa, però insomma io sono un professionista, non dico fesserie. Ok, andiamo sui grafici e vediamo invece una cosa che può essere utile e assolutamente utile per tutti quelli che hanno le cripto in portafoglio come me in questo momento. E andiamo a vedere il grafico di Bitcoin, che cosa sta facendo e quali sono le prospettive medio periodo per la cripto più famosa. Bene ragazzi, allora analisi ciclica, allora intanto, anzi facciamo una bella cosa, facciamo prima la tecnica che mi piace di più in questo momento, è più semplice da fare. Allora ragazzi, trend ribassista, stop. Potremmo chiudere qui qualsiasi forma di analisi, vedete il trend ribassista di breve periodo. Il trend ribassista è iniziato nella giornata di 17-18 di febbraio, se non sbaglio, guardiamolo subito, più o meno qui il massimo è iniziato il 13, quindi da qui in poi è iniziato il trend ribassista di Bitcoin. Trend ribassista atteso non così forte. Dovevamo avere una scadenza ciclica, vi avevo detto che ci sarebbe stata una chiusura di una mensile e quel mensile l'ha chiuso in maniera estremamente pronunciata. Poi il rialzo non ha lasciato tregua ai mercati, perché poi sono andati ad affondare di nuovo. In questo momento qui, precisamente su questo rialzo, ragazzi, ho fatto uno dei miei video più preziosi, secondo me, da un punto di vista di analisi di lungo periodo, perché va da qui alla fine dell'anno. L'ho pubblicato per tutti gli iscritti alla Trading on Academy, ragazzi, la mia Academy Premium, e tutti abbiamo discusso di questi tre scenari che io ho delineato per il mercato delle criptovalute fino a fine anno per Bitcoin, in particolar modo. Questi tre scenari, diciamo, uno di questi tre è quello che si avvererà. In questo momento, purtroppo, quello rialzista è venuto meno. Se volete comunque vedere questo webinar è disponibile per tutti gli iscritti all'Academy. Ragazzi, il link per iscriversi è in descrizione. Ci sono una serie anche di attività che facciamo, ma trovate il link e lo andate a vedere. Ci sono anche le rendite che stiamo realizzando a costruire come strumenti di portafoglio evoluto, di investimento evoluto, nei bellissimi esperimenti. In questo punto, come vi dicevo, ho detto a tutti gli iscritti all'Academy, attenzione, perché questa fase non è per niente bella e non è quella che ci aspettavamo. Quindi qui sono cambiate tutte le carte in tavola. Ho fatto anche un video sul canale Telegram gratuito, ragazzi, che molti di voi si saranno già iscritti dopo l'altro video dove l'ho detto e avranno visto, insomma, il mio video sulla ciclica. Per quanto riguarda quindi questa fase, cosa sta succedendo? L'analisi tecnica ci dice che il trend è negativo, ragazzi, quindi non c'è nessuna inversione, non c'è niente. Quindi abbiamo due tipi di trend in questo momento che dobbiamo andare a verificare. Il trend di medio periodo è questo, ragazzi, barra di congestione, così come anche questo Golden Cross, vi avevo detto più volte, poteva essere indicativo di una semplice barra di congestione, cioè di un passaggio da trend di ribasso di medio periodo a laterale di medio periodo, perché noi dobbiamo anche immaginare che Bitcoin viene da qui, ragazzi, vedete? Viene da questo punto, quindi questo Golden Cross è come questo Death Cross, cioè una semplice congestione, barra di congestione, va bene? Nel breve, invece, il trend è ribassista. Nel lungo periodo c'è un problema di fondo, ragazzi, cioè il problema di considerare il lungo periodo, se consideriamo il lungo periodo di Bitcoin, 5-6 anni, rialzista, ci mancherebbe, insomma, ragazzi, siamo saliti da prezzi stellari, ci mancherebbe che non è rialzista. Però, però, se lo consideriamo nell'arco degli ultimi due anni, quindi, ma anche tre anni, cioè dal 2017 in poi, questo trend, purtroppo, definirlo rialzista, non è così, perché già, se iniziamo da qua, del 2017, sì, è un trend rialzista, ma molto, molto volatile, molto laterale nella sua struttura. Quindi, il trend di lungo periodo del mercato Bitcoin, lunghissimo periodo, resta rialzista, ma il trend di medio-lungo periodo, quindi, due anni, diciamo così, negli ultimi due anni, è laterale, tendenzialmente rialzista, ma laterale, ragazzi, è la definizione più corretta. Quando cambierà questo atteggiamento? Quando il trend di, potrà essere definito, anche quello di medio, è di lungo, medio-lungo, potrà essere definito rialzista, solo sopra i massimi del 2019, di giugno 2019. Non è detto che non andremo qui su, comunque, da 13-14 mila dollari a salire. Definitivamente sancita questo trend solo al superamento di questi massimi storici. Quindi, in questo momento, si può fare trading sul mercato Bitcoin? Bitcoin? Assolutamente sì, nel medio periodo. Vi consiglio questo tipo di intervallo temporale. Se volete fare trading e farlo bene sul mercato Bitcoin, fatelo dentro una mese, ragazzi. Non fate trading da qui a una settimana, da qui, scusate, da qui a un giorno. Fate trading da qui a una settimana, da qui a un mese. Questo è un bello orizzonte temporale. Se volete fare trading di posizione nel lungo periodo, allora dovete usare delle tecniche di posizionamento strategico, come la dollar cost average, ma l'abbiamo visto l'esperimento della dollar cost average. A proposito, ragazzi, chiaramente la dollar cost average, farò un video apposito, vi farò vedere come la conclusione dei giochi, chiaramente, ho vinto io su tutte e due queste strategie. Ma non era un caso, ragazzi. Io ho fatto questo video in reale, proprio per farvi vedere come è anche estremamente facile vincere contro questo tipo di strategie, se siete dei trader minimamente formati. Per cui non mi sono neanche molto preoccupato di poter fare questa scommessa col mercato, perché veramente si vince il 90% delle volte. basta avere un minimo di formazione sul trading, e che consiglio a tutti, anche se poi volete applicare la dollar cost average. Comunque ne parleremo in un altro video. Mi dilungo troppo, ragazzi. Allora, al momento, quindi, vi ho detto l'operatività anche di breve, il trend ribassista, dove cambia nel breve per l'analisi tecnica solo al superamento di questo livello di quotazione, cioè del precedente massimo 9200-9500, fino al raggiungimento di questa resistenza che indicherei come questo punto qui, 9500, già 9000 magari prende forza, però 9500, ragazzi, è il livello da battere, il trend di breve rimane ribassista, ed è diventato ribassista dopo la rottura di questa giornata, proprio con questo ribasso che ha cambiato completamente la view di questo mercato. L'unica cosa che ci viene incontro in questo momento è l'analisi ciclica. L'analisi ciclica, in questo caso, ragazzi, assume un fattore di previsione futuristica di quello che potrebbe essere la conclusione di questo momento ribassista. Quindi qui, ragazzi, già da qui veramente nessuno dovrebbe essere long, quindi tutti quelli che lavoravano nel breve periodo, medio-breve periodo, dovrebbero essere fuori dal mercato. Chi sta posizionandosi per un lunghissimo periodo, quindi con una scommessa a 4 anni, 5 anni, allora ci può stare che in questa fase abbia accumulato qualcosina, ragazzi, ma vostro rischio è pericolo perché un posizionamento senza salvagenti per tutto questo tempo è fortemente rischioso, quindi tenetelo sempre a mente, ragazzi. Non lo sto sconsigliando, io poi non do consigli finanziari sul canale, ragazzi, però ricordatevi che è fortemente rischioso, quindi dovete avere le spalle belle, forti, va bene? Io stesso detengo delle posizioni in holding su Bitcoin, mi servono per costruire le mie rendite, quelle di cui, insomma, sto parlando negli ultimi mesi nell'Academy di Trading On, ma, ragazzi, non tutto il mio capitale è messo in un unico, diciamo, vaso, ok? Questo ormai l'avete capito. Parliamo della ciclica, definiamo e poi concludiamo con Ethereum perché volevo mostrarvi anche Ethereum alla fine del video. Allora, per quanto riguarda l'analisi ciclica, quello che sta facendo il mercato è indicarci una cosa, ragazzi, probabilmente questo che abbiamo visto, questo movimento, è l'unione di due cicli, ragazzi, due cicli a forma ternaria. Purtroppo, il famoso ciclo ternario bastardo, chiamiamolo così si può dire, non so, su YouTube, perché è difficile da prevedere, ragazzi, e sfasa tutte le indicazioni. Questo massimo costruito in questo punto mi dà due fondamentali conclusioni. Primo, questo ciclo iniziato il 18 di dicembre dovrebbe essere rialzista, quindi non dovremmo andare al di sotto di questo minimo, alla chiusura di questo ciclo. Sarà poi il prossimo a dare le conclusioni se questa cosa sarà, diciamo, finita o meno. Perché? Perché abbiamo una forma ciclica che è di questo tipo, vedete? Una forma ciclica ternaria che però dovrebbe avere il massimo nella seconda parte del ciclo e quindi, tecnicamente, dovrebbe essere un ciclo rialzista, quindi che parte da qui e finisce magari a un minimo come quello che abbiamo visto qui o magari un po' giù di lì. Questa struttura ciclica potrebbe essere la conclusiva di questa struttura qui. Io vi ho dato già delle indicazioni, lo vedete qui, posizionandoli, diciamo, in vista di questa scadenza che dovrebbe essere a fine settimana, ma, ragazzi, purtroppo, essendo i cicli precedenti formati tra 50 e 45 barre e 56 barre, qui potremmo tranquillamente andare a posizionarsi a fine marzo come una scadenza di un ciclo mensile normale. Se dovessimo ragionare in maniera corretta dovremmo fare questo tipo di previsioni, quindi vedere questo ciclo ternario costruito in questo modo, ragazzi. Vedete? In questo modo qui. E a questo punto mancherebbe il terzo ciclo, che è il ribassista, ragazzi, che anche se lo costruiamo un po' più corto, magari, dei precedenti, ci porta sempre al 28 di marzo, quindi a fine marzo. E questa fase, vedete, è un ciclo che, se questa figura, questa teoria, verrà rispettata, indica che la fase di ribasso in questo momento non è terminata. Bensì questo ciclo porterebbe a una fase, diciamo così, e poi alla conclusione del ciclo ribassista, fra qualche giorno, che dovrebbe andare al di sotto di questi minimi. Ora, ciclicamente e anche come analisi tecnica, questa view, ragazzi, il mercato la sta prendendo alla lettera. Non mi sento di escluderla, non mi piace, chiaramente, ragazzi, non posso che dirvi di essere, diciamo, dispiaciuto per questa view, ma non possiamo negarla dal mercato. Quindi, in questo momento, andiamo a considerare questa come la view principale, una fase conclusiva. Quale sarebbe la migliore soluzione in questo momento? Barra di congestione, cioè attesa. Magari mini rialzi che poi vengono riassorbiti. Una cosa del genere, ragazzi, in modo tale da chiudere senza fare grandi danni. Cioè chiudere questa fase facendo un atteggiamento da mercato che mi porta a fare la famosa coppa di inversione. Vedete, una cosa del genere. questo atteggiamento che poi mi porterebbe magari ad un nuovo ciclo completamente diverso. Questa cosa, ragazzi, io sono pessimo al disegnare. Allora, questa cosa, qui vedete, questo atteggiamento ciclico. Allora, questa è la soluzione. In questo momento, più adatta, migliore, la soluzione positiva per i mercati delle criptovalute, attesa in barra di congestione. Se dovesse partire a V, mi alzo le mani, insomma, sarei l'uomo più felice del mondo. Gli ingressi, chiaramente, sarebbero al superamento di 9.500 in questo momento. Quindi prima di quei livelli non c'è nessun ingresso. Velocemente passiamo su Ethereum, ragazzi. Stessa sorte, anche per la regina delle cripto. Regina delle cripto che però indica, ragazzi, che magari un ciclo potrebbe essersi anche definito qui. Però non lo sappiamo questo, vediamo. Allora, se indichiamo, diciamo, ancora qui come un 100 giorni finale di questo ternario, questo è un ciclo ternario, ormai, ragazzi, l'avete capito, andiamo a indicare, ecco, vi faccio vedere i cicli sottostanti di Ethereum, che sono un po' più disegnati rispetto a quelli di Bitcoin, perché sono stati fatti così, vedete. Sono cicli da 30 giorni, questo dovrebbe essere un po' più corto, quindi ipotizziamolo più o meno così. Non è importante quanto, diciamo, è lungo, perché poi il mercato cambia sempre, ragazzi. Non ci interessa prevedere il futuro. Sapete che l'analisi tecnica ciclica non deve prevedere il futuro, non deve essere usata. E' a questo scopo, deve solo indicarci le strade, poi dobbiamo essere dei bravi trader per sfruttare le occasioni. Vedete, questo è l'atteggiamento anche su Ethereum. Probabilmente si dovrebbe appoggiare sul supporto a 180, che dovrebbe reggere, ragazzi, supporto che era una vecchia resistenza fortissima e che Ethereum aveva bucato come un grissino, qui, ragazzi, ok? Quindi questa fase, vedete, anche qui i prezzi, quanto tempo ci hanno perso, quindi significa che il valore, il valore in questo punto è adatto per un trend di medio periodo. Quindi qui eravamo in eccesso, questo è il senso di questa analisi, analisi un po' sul valore reale, al di là delle oscillazioni di mercato. Quindi anche per Ethereum abbiamo questo ciclo in attesa di conclusione. solo al di sopra di 250, vedete, qui cambia il trend di breve per quanto riguarda la regina delle cripto. Video lunghissimo, ragazzi, mi dispiace, ma tanti argomenti da trattare in questo momento. Accelerate il video su YouTube, si può fare, mettetelo a 1.5, così io vado più veloce e voi finite prima. Bene, io vi ringrazio, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci rivediamo in settimana, ci sono un sacco di video che sto preparando, quindi non ve ne perdete neanche uno, ragazzi. Ciao a tutti e ci vediamo probabilmente domani, probabilmente domani. Ciao!